Una targa commemorativa per Eliseo Papa, architetto scomparso nell'ottobre del 2017, che ha lavorato al Pala Leonessa come suo ultimo progetto ma non è riuscito a vedere ultimato in tempo. Una targa commemorativa per Marco Solfrini, cestista che ha portato in alto il nome di Brescia e che proprio del basket Brescia Leonessa divenne team manager nel 2009, scomparso improvvisamente nel marzo di questo anno. Sono questi i due attimi che nella giornata di venerdì 18 maggio hanno riunito tantissima gente all'ex Pala AB. Sì, volevamo ricordare Eliseo Papa che è il progettista che ha inventato, ha vinto la gara e ha inventato questa bellissima operazione anche dal punto di vista stilistico, l'impianto dei colori, il canestro rovesciato, il recupero di questa struttura di tiranti ed non era possibile non ricordare, è un progettista che praticamente fino a che è morto ha seguito giorno per giorno la fase proprio costruttiva, parlando col direttore dei lavori, mai mollando un minuto. E dall'altra ricordare Marco Solfrini che è la storia del basket Brescia e quindi mi ha anche emozionato vedere di fronte due targhe, quella del progettista e quella di Marco. Lo volevamo fare non in occasione dell'inaugurazione che sarà a settembre perché rischiava di entrare inevitabilmente in un cono d'ombra, mentre invece in questo modo è stata l'occasione per incominciare a assaporare cosa vuol dire entrare nel Palaleonessa, ma nello stesso tempo era anche l'occasione giusta per dedicare un po' di tempo a loro due che se lo meritano. Oltre al momento del ricordo, l'opportunità per i presenti di vedere lo stato dei lavori di quello che sarà il Palaleonessa. È stata una grande fatica, un grande impegno, devo anche ringraziare l'immobiliare Fiera e la Camera di Commercio che ha preso delle decisioni che hanno permesso poi la realizzazione di questo palazzetto che poi verrà ceduto al Comune di Brescia che rimarrà proprietario. Però sì, è una bella soddisfazione e anche una bella emozione, devo ringraziare tanti quelli che hanno lavorato, dicevo prima l'ingegner Frigerio, lo stesso Ambrosio, il Presidente della Camera di Commercio, ma anche il mio assessore Michela Tiboni, il Presidente della Commissione Urbanistica, Aldo Boifava, il Direttore dei Lavori, Nicola Berlucchi, ma anche la Butturini, il Ruppo, insomma ci hanno lavorato in tanti per questa cosa qua e voglio solo ringraziare per la serietà con cui l'hanno fatto. All'evento era presente anche tutta la squadra della Germani Basket Brescia, riduce ad una stagione fantastica che non è ancora terminata, che proprio dal prossimo settembre giocherà sul parchi del Palaleonese. Una stagione, la definirei meravigliosa, una stagione a 5 stelle dove abbiamo raggiunto un terzo posto in classifica, abbiamo raggiunto questi play-off, li stiamo giocando da protagonisti e quindi siamo una delle quattro squadre in Italia e direi che è la soddisfazione più grande per noi e per tutta la città. Quindi il momento migliore per fare questa giornata di Open Day effettivamente è proprio stato questo e ha coinciso con la quasi finitura di questo meraviglioso palazzetto e di questa struttura che ricorda quelli che sono stati gli anni d'oro del Basket Brescia.